Dubai, la città che è nel futuro, sì lo è già nel futuro, ma è davvero la città per tutti? Oppure c'è qualche tipologia di persona che potrebbe non amare Dubai? La risposta è sì, Dubai è per tantissime persone, vedremo i motivi oggi per cui programmare, organizzare un viaggio a Dubai, ma vedremo anche qualche motivo per cui potrebbe non interessarti Dubai, potrebbe non essere la città giusta per te, potrebbero essere soldi spesi male un viaggio da quelle parti. Quindi cominceremo subito con i motivi per cui dovresti andare a Dubai, poi andremo avanti con i motivi per cui non dovresti andare a Dubai e poi chiuderò anche con il discorso è cara Dubai, proverò a risponderti. Quindi perché organizzare un viaggio a Dubai e perché andare a Dubai? Il primo motivo è che a Dubai c'è più o meno quasi tutto per tutti, sì c'è veramente l'imbarazzo della scelta, è una città che è nel futuro come abbiamo detto nell'incipit all'inizio di questo video ed è una città dove puoi andare al mare, dove puoi fare le discese in scivoli in un parco acquatico, dove puoi visitare musei molto interessanti, musei molto moderni, interessanti, con opere importanti, è una città dove puoi fare tanto shopping, è una città dove puoi portare la famiglia, è una città dove puoi andare per business, per eventi, è una città in cui puoi assaggiare tutte le cucine del mondo e anche ad alto livello, è a costo abbastanza contenuto. C'è il deserto lì vicino con tutte le attività che il deserto regala, ripeto eventi, fiere, spettacoli, di tutto e di più. Motivo numero due, Dubai è una città sicurissima, puoi girare a qualsiasi ora del giorno e della notte e questo non è scontato, soprattutto in Europa, credimi nemmeno nelle città di provincia, ripeto puoi girare di giorno e di notte a qualsiasi ora del giorno e della notte e ti sentirai sicurissimo o sicurissima. La criminalità Dubai è a livelli veramente bassi, ma davvero bassi, sfiora nemmeno l'1%. Motivo numero tre è il regno dello shopping, qui trovi veramente tutto, trovi veramente tutto e si trovi tutte le marche anche quelle italiane, magari arrivano un pochino più tardi ed è per questo che chi ha i soldi a Dubai, ovvero gli emiratini, se ne vengono in Italia per fare shopping perché arriva un po' prima la roba, ma detto questo lì trovi tutto, parlo di moda, parlo di qualsiasi cosa, spezie, datteri, frutta secca, puoi trovare qualsiasi cosa, sì anche l'elettronica costa meno e non solo durante appunto la fiera dell'elettronica che si tiene una volta all'anno, in media comunque l'elettronica costa un pochino meno che in Europa, non te la regalano sicuramente ma un pochino meno. Insomma siamo nel regno del consumismo e quindi lo shopping la fa da padrone. Motivo numero 4, quando vai a prenotare un hotel, quell'hotel che prenoti ha una qualità mediamente superiore dello stesso hotel in Europa, sì è proprio così, qui è difficile trovare hotel di bassa qualità, un po' perché la maggior parte degli hotel sono nuovi o nati da pochi anni, un po' perché c'è proprio una filosofia dietro di grandissima qualità prezzo per gli hotel. Se mi lasci stare gli hotel più lussuosi ed estremi, quelli da sette stelle, anche se poi ne hanno cinque realmente come la vera al Burgi al Arab che è iconico, ma se vai su hotel di catena, su hotel anche locali che comunque sono hotel quattro stelle, trovi una qualità che è sicuramente più alta rispetto alla qualità di un quattro stelle più o meno in tutta Europa. Non dico che voglio fare di tutta erba un fascio, ma qui la qualità prezzo degli hotel è esagerata. Motivo numero 5 è la meta ideale per chi cerca viaggi iconici, l'ho detto anche nel punto precedente, qui siamo nella città delle grandezze, degli eccessi, qui ci sono i record del mondo, c'è il grattacielo più alto del mondo, ancora oggi poi magari qualcuno lo batterà, ma il Burgi Califa è il grattacielo più alto al mondo, quindi se vuoi vederlo, se ci vuoi salire sopra devi andare a Dubai. C'è l'hotel sette stelle, che non è veramente sette stelle, ma con le suite royal che sono da mille e una notte, che è il Burgi al Arab, una struttura ormai iconica, la famosa vela, qui c'è la palma, l'isola artificiale che si vede anche dal satellite, è strafamosa, ne stanno costruendo un'altra, stanno costruendo anche il mondo come isola artificiale, qui stiamo parlando di un viaggio assolutamente iconico, i simboli di Dubai sono diventati icone e quindi il viaggio che fai è iconico. Motivo numero 6, l'ultimo di questa lista che potrebbe andare avanti per un po' è che sei comunque nel mondo arabo e se tu ti vuoi avvicinare al mondo arabo e musulmano, però un pochino più nascosto, diciamo così, un pochino più blando, un pochino più tollerante verso tutto ciò che fanno i turisti che portano soldi, questo è il punto. Beh, questa è la destinazione che fa per te. Dubai è sicuramente, come tutti gli Emirati Arabi Uniti, un paese musulmano, è sicuramente un paese che ha dei contrasti, ma soprattutto l'Emirato di Dubai e l'Emirato di Abu Dhabi sono un pochino, un pochino tanto, tolleranti verso tutto ciò che fa il turista, quindi diciamo che sei nel mondo arabo ma molto molto blando e moderato, per cui potresti avere, diciamo, una prima prova, un primo assaggio se non hai mai provato a viaggiare nei paesi arabi e musulmani e magari capire se fa per te o non fa per te, perché qua è veramente blando. Ti sto aiutando adesso, ti ho aiutato in passato, ti ho informato, allora puoi sostenere il progetto Viaggio Vero con un grazie, con il pulsante appunto grazie, una piccola donazione che sostiene il progetto Viaggio Vero o ancora meglio con il pulsante sempre qui sotto abbonati puoi appunto abbonarti, sostenere il progetto e avere tanti vantaggi. Non voglio assolutamente toglierti tempo a questo contenuto, quindi se clicchi sul tasto abbonati partirà un video e vedrai tutte le possibilità di abbonamento, sono cinque, con diversi livelli di vantaggio a crescere. Insomma ci sono abbonamenti per tutti, si parte da 99 centesimi di euro al mese, nemmeno il costo di un caffè per te per avere già tanti tanti vantaggi. Quindi non ti resta che cliccare sul pulsante abbonati e scoprire tutti i vantaggi a seconda dei vari livelli di abbonamento. E grazie per il tuo sostegno. E ora, visto che io sono così e a me piace fare le cose complete, non è un video dove ti dico vai a Dubai perché ci devi andare. No, ti dico vai a Dubai se ti interessano queste cose. Pensa se non fa il caso tuo con queste cose che adesso andiamo a elencare. Non è per te se cerchi cultura e storia. Ok, non voglio dire che negli Emirati Arabi Uniti e nell'Emirato di Dubai non ci sia cultura e storia, ma è recentissima. La cultura e la storia di questa zona di mondo è quella dei beduini, è quella dei nomadi e fino agli anni 70 qui non c'era nulla. C'era un borgo di pescatori, chiamarlo borgo è anche una cosa esagerata. Negli anni 90 qui c'era ancora due grattacieli incroci, quindi stiamo parlando di un luogo in cui non c'è cultura. Se stai cercando cultura e storia millenaria qui non la troverai, non troverai musei di cultura e storia millenaria, non troverai dei centri storici incredibili, dei reperti storici millenari. No, qui no. Se vuoi fare questo tipo di viaggio, devi rimanere in Italia, devi stare in Europa, devi comunque godere del nostro vecchio continente e di altri luoghi nel mondo, ma sicuramente non negli Emirati Arabi Uniti. Motivo numero due per non andare a Dubai, se non stai cercando un luogo che abbia caos, che abbia traffico ad esempio, beh allora forse Dubai non fa per te. Perché? Ho detto troppi non, forse mi sono anche incartato. Comunque a Dubai c'è casino, ci sono stradoni da 5-6 corsie stile Los Angeles in alcuni punti della città, ci sono stazioni della metropolitana di superficie che in certi orari della giornata vomitano e riversano migliaia di persone. Insomma non è una città tranquilla sicuramente, soprattutto la mattina in una direzione e la sera in un'altra direzione, cioè la sera in uscita dalla città e la mattina in ingresso alla città. Muoversi significa buttarsi nel traffico, muoversi significa non sapere quando si arriva in un posto, perché sostanzialmente ci potrebbe essere gorghi, incidenti, c'è tanto casino. Non c'è nemmeno tranquillità in quella che viene chiamata la città vecchia, seppur vecchia che sia, che è il succo eccetera, è chiaro, più turistico, ma anche lì c'è confusione, non c'è la confusione dei suc mediorientali puri, duri, ma sicuramente è comunque un succo. Insomma qui se cerchi tranquillità difficilmente la trovi. Non è per te Dubai se cerchi una destinazione davvero verde, qui il verde esiste ma è un verde fake, è un verde... qui ci sono fiori ovunque, basta vedere anche nelle aiuole stradali e sono sempre belli, freschi, ogni settimana vengono cambiati, è uno spreco incredibile. Insomma qui qualche parco c'è ma veramente poca roba, qualcosa di più ad Abu Dhabi nell'altro Emirato ma veramente se stai cercando boschi, se stai cercando camminate nel verde sicuramente Dubai non fa per te, è inutile che ci giriamo intorno, non è una città votata agli amanti del green, agli amanti del verde. Un bosco, una ricerca di un bosco e di un passeggio a Dubai o di una pineta a Dubai, la vedo dura. Lo so che non è proprio questa zona di mondo ricca di boschi e pinete ma visto che qui hanno fatto di tutto e hanno costruito di tutto, anche delle piste da sci, capisci, dentro i centri commerciali capisci che si poteva anche lavorare meglio sul verde. Quindi se cerchi verde non è per te. Secondo me al di là di quello che fanno i VIP per me Dubai non è nemmeno la meta ideale per chi vuole fare mare, per chi vuole fare una vacanza mare vera. Perché? Perché secondo me anche lì è tutto un po' costruito, anzi loro non hanno proprio i locals, non hanno proprio la cultura della spiaggia e infatti attrezzano soltanto le parti degli hotel che interessano gli stranieri, non hanno, hanno due spiagge pubbliche incrociano, non hanno la cultura appunto dell'andare al mare. In questa parte di mondo chi vive e nato e cresciuto lì non ha la cultura di andare al mare, di passare delle ore al mare, non ce l'ha. Magari ha la cultura di affittare uno yacht e andare al mare ma non di andare in spiaggia. Per cui che che ne dicano i nostri VIP nostrani non è il luogo ideale per andare al mare. In più la vita non esiste nel mare di Dubai, proprio davanti. Poi se si va molto a largo, ci si muove con dei mezzi, delle barche, ok, ma non c'è vita marittima, non ci sono pesci, non c'è nulla, è tutto bello ma non c'è vita nel mare di Dubai, almeno davanti alla città, nelle spiagge. Per cui anche quello a me sembra tanto finto, mi sembra quasi di immergermi nel mar morto, però quello ha un senso, invece secondo me il mare di Dubai ne ha molto meno. Non è sicuramente il posto se vuoi conoscere, è il contrario di quel motivo per cui andarci, se vuoi conoscere veramente il mondo arabo e musulmano. Dubai è blando, come ho detto prima, quindi se tu, se il tuo obiettivo è quello di immergerti in una cultura, cercare di capire, per quello che possiamo capire, la cultura musulmana e il mondo arabo, partire da Dubai è come non partire, sostanzialmente, qui è tutto molto blando, quindi se stai cercando quello non è la tua meta. Io che ho il mondo arabo lo amo tantissimo, il mondo musulmano, i paesi musulmani a me piacciono molto culturalmente e con tutto quello che gli sta intorno, qui fai fatica a sentire il muazzin, è veramente l'antitesi a mio avviso. Lo sono, ma è l'antitesi per chi cerca alcune emozioni di quel tipo. Secondo me Dubai non è nemmeno per chi è contro le disuguaglianze sociali, perché Dubai, seppur essendo molto meglio di altri paesi del mondo arabo, vedi l'Arabia Saudita che dovrà migliorare molto sotto questo aspetto, qui ti dicono che è tutto uguale per tutti, le donne al pari dell'uomo, tutti i lavoratori hanno dei diritti. In parte è vero, in parte anche no. Diciamo che, se andiamo a vedere, il primo sindacato è stato fondato pochissimo tempo fa, forse poco prima del covid o poco prima ancora. Insomma, qui fino al 2018-2019 non si poteva non lavorare 24 ore al giorno per alcune categorie, ovvero indiani, pakistani, persone del Bangladesh, che vengono qui a costruire quelle icone, appunto, che sono un motivo per cui andare a Dubai. Quei grattacieli, quelle grandi strutture e per cui, onestamente, io non ho nemmeno la più pallida idea di quanta gente sia morta dal 1990 a venire a 2019, forse 2020, quando un minimo di controllo in più c'è, da quando c'è questo minimo di controllo in più, per andare così forte nelle costruzioni, per andare così veloci. È vero anche che vengono pagati, sì, vengono pagati, poco o tanto che sia, 800-900 euro al mese l'equivalente, ma hanno avuto il alloggio, non fanno una vita, è una loro scelta, tu dirai lo è, però diciamo che di diritti non ce ne sono tanti. Diciamo che non è un luogo dove puoi esternare le tue contrarietà verso chi comanda. Non lo puoi fare, semplicemente no. C'è un uomo al comando, quello che dice è giusto, punto. È così? Oppo me? Ah, non sono sponsorizzato dalla passata di Pomodoranti, non so neanche se esiste più. Fatemi sapere se esiste perché mi ricordo la vecchia pubblicità, ma non so più nemmeno se esiste. È una vita che non la vedo al supermercato. Ultimo motivo per non andare a Dubai, per evitare Dubai, è se hai le tue ferie e le puoi prendere soltanto nei mesi estivi, giugno, luglio, agosto, ma non andare a Dubai. Lo so che tanta gente ci va, ma con la pazzia che contraddistingue il fatto di non fare una valutazione. Qui le temperature in quel periodo dell'anno arrivano sopra i 50 gradi. Io mi domando e dico, ma a meno che tu non voglia fare una vacanza al chiuso, nell'aria condizionata degli alberghi, nei centri commerciali, in parchi acquatici che magari sono al chiuso, che tu non voglia andare a sciare all'emirates mall all'interno del centro commerciale, io credo che giugno, luglio e agosto non siano i mesi giusti per andare a Dubai. Semplicemente perché tutto quello che puoi fare all'aperto non lo puoi fare a giugno, luglio e agosto. Ti perdi il deserto, ti perdi il mare, ti perdi il suc, ti perdi il 60, sto esagerando, secondo me 60-65% delle cose che puoi fare a Dubai. Se ci vai a giugno e luglio e agosto perché di giorno comunque si possono toccare temperature di 50-52 gradi. Ci saranno 45 gradi? Bene, fai con 45 gradi quelle attività se riesci. E ora lasciami ti ricordare un anno con Viaggio Vero, il modo che hai per ricevere una mail al giorno tutte le mattine alle ore 9 con un consiglio di viaggio che ti passo. Un consiglio di viaggio che riguarda qualsiasi tipologia di viaggio, qualsiasi servizio di viaggio, qualsiasi ambito del mondo del viaggiare. 365 mail, dura un anno intero questo prodotto e ogni mattina alle 9 ti ritrovi in casella di posta elettronica una mail con un consiglio di viaggio. Un prodotto secondo me a prezzo imperdibile per tutti, dai neofiti, da chi comincia a viaggiare, da chi viaggia non troppe volte all'anno a chi invece si considera viaggiatore vero. Perché? Perché c'è di tutto. In un anno trattiamo tutti i temi e l'obiettivo, l'unico grande obiettivo di un anno con Viaggio Vero è quello di viaggiare al meglio, farti ma anche farci viaggiare al meglio, perché è una vera e propria enciclopedia del viaggio, in cui sto mettendo tutto il mio sapere, tutto ciò che provo, tutto ciò che scopro. Quindi è un prodotto pazzesco, un anno intero di contenuti, un anno di contenuti a soli 77 euro. Insomma, pazzesco il prezzo, pazzesco il contenuto, la mole di contenuti e l'obiettivo è sempre quello, viaggiare al meglio. E ora lo so, quella domanda pazza che vi gira in testa e che volete sempre chiedere, ma è cara Dubai? Come ti dicono? È veramente così cara Dubai? Oppure è una grande palla? La risposta è sempre la stessa. Dipende come la stragrande maggioranza delle destinazioni. Ci sono alcune destinazioni nel mondo che sono veramente care e destinazioni nel mondo che sono veramente economiche, ma nella stragrande maggioranza dei casi la risposta sarà sempre dipende. Come dicevo, a Dubai, gli hotel, se andiamo su, se evitiamo quelli, l'hotel Armani, al Burj Khalifa, se evitiamo l'Atlantis, The Atlantis nella punta della palma, se evitiamo queste icone, il Burj Al Arab, la vela, se le evitiamo, la maggior parte degli hotel di catena sono hotel che hanno una qualità prezzo molto molto alta. Anche con 80-100 euro a notte sicuramente dormi in strutture di alta qualità. Se poi hai 120-130 euro a notte, beh, con quei soldi a Barcellona al momento ti ricordo che vai in uno stall, nella stragrande maggioranza dello stall, o dormi in un Ibis da tre stelle scarse. Insomma, qui con quei soldi ottieni dei servizi di altissimo livello. Quindi, se il tuo obiettivo è dormire con 30 euro a notte, no, ti dico che Dubai è cara. Ma se il tuo obiettivo è avere una qualità prezzo alta, qui io credo che sia una delle qualità prezzo migliori al mondo per quello che ti viene dato. E quindi poi c'è tutto il discorso del cibo, che è la stessa cosa. Qui hai tutti gli stellati del mondo, hai tanti stellati che hanno aperto il loro branch qui, tanti chef importanti che hanno aperto il loro ristorante dopo che in patria, anche qui. E magari costa meno. Ci sono ottimi ristoranti di medio-alto livello di tutte le nazionalità che paghi il giusto, cioè che paghi 30, 40, 50 euro a testa, ma sicuramente fai un'esperienza di alto livello. Quei soldi lì, da un'altra parte, non ti permettono di fare queste esperienze culinarie. Poi è anche vero che puoi mangiare con l'equivalente di 5 euro, di 10 euro, sicuramente. Ci sono tutti questi food court, questi corti del cibo all'interno degli centri commerciali, all'interno del succo, all'interno di tanti luoghi. Trovi questi food court dove puoi pranzare o cenare o fare merenda, qualsiasi cosa, con pochi euro. E soprattutto puoi mangiare qualsiasi cosa, dal sushi all'indiano, all'italiano, a qualsiasi cosa. E sì, anche le attività hanno il loro prezzo, ma hanno un prezzo che, a mio avviso, ha una qualità prezzo molto elevata. Qui lanciarsi con il parapendio al di sopra della palma ha un costo, ma non ha il costo che ci immaginiamo noi. Non costa così tanto come dovrebbe costare in questa città a fare questa attività. L'attività nel deserto, con la cena, non ha questi costi così strabilianti e comunque è un servizio di alta qualità. Poi, anche qui, sì, ci sono anche delle esperienze e degli affitti e delle attività, affitti mezzi, eccetera, eccetera, che hanno dei costi assurdi, ma stiamo parlando di scelte che vai a fare. I taxi sono economici, i taxi sono davvero economici. Un taxi per una ventina di minuti o mezz'ora di tragitto difficilmente ti costa più di 10 euro, 10-15 euro per fare tanti chilometri e stare tanto in taxi. Insomma, qui i taxi sono davvero economici e quindi non sono paragonabili all'Europa. In Europa non sai nemmeno quanto pagherai se sali su un taxi. Devi sperare che accendano il tassametro, non sai se avranno la carta. Qui queste cose non succedono, qui queste cose non succedono. Qui il tassametro lo avviano, parte da 5 deram e lo avviano e parte per tutti. Tutti hanno il POS, tutti hanno il POS e quindi zero problemi. Non c'è pericolo che un tassista ti truffi. Non esiste. Non esiste per quella sicurezza che dicevo nel punto in cui ti dicevo perché andare a Dubai, perché è sicurissima e la sicurezza rientra anche nel non essere truffati dai tassisti, cosa che avviene giornalmente in ogni città d'Europa normale. Prendi anche la città di provincia europea. Non tutti i tassisti, chiaramente, ma è una categoria che tende, tende, diciamo così. Insomma, non è così costosa come sembra. Insomma, può essere molto più costosa di quello che è, sì, ma non è così costosa come sembra se fai delle scelte più oculate e se vai per goderti Dubai, per vedere Dubai, per visitare Dubai. Ecco, questa è la mia conclusione. Insomma, questo video non ti vuole né spingere né allontanare da Dubai. Ti vuole spiegare come stanno i fatti, i motivi per cui andare a Dubai e i motivi per cui non andare a Dubai sono tanti altri, però questi, secondo me, sono i più importanti. Sono appena rientrato da Dubai. Sono rientrato, registro questo video il giorno dopo che sono rientrato per la quarta volta da Dubai. Quindi Dubai è una città che ormai conosco bene. Dubai è una città che ho imparato ad apprezzare, seppur non sia il mio viaggio. È inutile che ci giriamo intorno ed è una città in cui però non metto il paraocchio non sono il guru da Dubai e che ti consiglia solo Dubai. Provo a dirti le cose come stanno. Poi a te la scelta potrebbe diventare la tua città preferita, potrebbe diventare una città che tu non vorrai mai visitare. Se questo video ti è tornato utile, ti ha aiutato e ti ha aperto un po' gli occhi sulla città di Dubai, beh, un pollicione verso l'alto, aiuta a crescere il canale, mi fai tanto felice. Già per questo ti ringrazio tanto. Ciao, 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 ciao. E se non sei ancora iscritto o iscritta, però prima iscriviti col pulsante che trovi qui sotto. È tutto gratuito e clicca anche sulla campanella perché così ricevi altri video come questo che ti aiutano e qui a fianco passano due video altrettanto utili.